Siamo a casa di Nicola, una casa intelligente, domotica e fotovoltaico, andiamo a capire quanto è vicino il futuro. Ciao Nicola, grazie. Allora, facci vedere come funziona una casa intelligente e soprattutto sfatiamo un po' dei miti. Il fotovoltaico non è efficiente, costa troppo, non è la soluzione, ci vuole nucleare, come rispondiamo? Il fotovoltaico è attualmente e indiscutibilmente, dati scientifici del CNR, quindi dati assolutamente attendibili, il sistema che l'Italia ha per tagliare definitivamente il problema annoso dell'energia. Sul tetto abbiamo il fotovoltaico, il fotovoltaico produce corrente continua, all'interno dell'accumulatore c'è un inverte che la trasforma in alternata e accumula l'energia che l'abitazione non usa in autoconsumo diretti. Il fotovoltaico produce una mole di energia enorme. Sai che c'è? I detrattori del fotovoltaico ci dicono, eh ma prima o poi arriva l'inverno, prima o poi come fate? Accendete le candele? Allora, novembre-dicembre 2021, io sto a Roma quindi lo sapete benissimo, è stato pessimo, non so quanti giorni ha piovuto. È vero, è andata male. Comunque ho tagliato il 38% dei consumi a novembre e il 41% a dicembre. Certo, non è l'85% di tutti gli altri dieci mesi, chiariamoci, perché di questo stiamo parlando. E di questi tempi, se monetizziamo questi calcoli, parliamo di cifre importanti, perché il kilowatt quando ho messo l'impianto nel 2019 costava circa 20 centesimi compreso di tasse. L'ultima bolletta si è arrivata a 70 centesimi non preso di tasse. Per cui significa, non mi nascondo nel dire, io lo studio che ho fatto sul fotovoltaico è quello che è arrivato al punto in cui avevo seriamente difficoltà a pagare il bolletto. La domotica è fondamentale nell'integrazione del fotovoltaico, perché da remoto, chiunque di noi ha un attimo di pausa, apre l'app per vedere quanto sta consumando casa, e noi abbiamo ancora affrontato il discorso delle tonnellate di anidride carbonica che non si immettono nell'atmosfera, perché la famiglia è come la nostra, di cinque persone, con l'impianto fotovoltaico. Dal marzo del 2019 ad oggi, ho visto che c'è un'app che fa questo calcolo, siamo arrivati a 23 tonnellate di anidride carbonica non immessa nell'aria. Ci fai vedere l'impianto? Come è? Come è? Come è? Come è? Come è? Faccio strato, prego. Allora, Nicola, svegliamo l'appo e l'interquazione ci troviamo. Sì, casterver. Castelverde, quindi vicino a Lunghezza, Sesto Municipio. Perché una delle cose che va dette, un altro per un giudizio, è che il fotovoltaico è una roba da ricchi. Ci troviamo a Castelverde, vicino a Lunghezza, Sesto Municipio, l'estrema propagine, diciamo, del Sesto Municipio, siamo fuori dal grande raccordo anulare, e anche qui il fotovoltaico, questo è l'impianto, ci lo racconti un po'? Sì, sono l'impianto da 6 kW, io l'ho voluto sovradimensionare volutamente perché l'ho fatto in prospettiva, perché dopo aver messo il fotovoltaico ho iniziato a mettere il piano a riduzione, dopo un anno ho messo la pompa di calore elettrica e quest'anno... Hai elettrificato i consumi. Totalmente, io ho messo pure la colonnina per la ricarica elettrica, perché la macchina elettrica non è il futuro, è il presente. E questo, diventare autonomo e diventare un risparmio energetico significa ottimizzare tutto il bilancio familiare, che le macchine ce le carichiamo a casa e nessuna colonnina in giro o nessun distributore di benzina potrà mai avere i costi che abbiamo noi a casa. Evidente perché noi non speculiamo sull'energia che produce acqua. E' un paese, secondo me, che deve scoprire i suoi talenti senza improvvisare, nel senso che vuol dire avere bene e chiare in testa che tipo di piano industriale che hai per questo paese. E noi abbiamo l'innovazione, le competenze, le prevede. Ma ci sono dei progetti del CNL sulla sovrabbondanza che generebbe il fotovoltaico che verrebbe usato per produrre l'idrogeno. Potremmo essere la nazione di Europa più capace nel produrre l'idrogeno, purtroppo attualmente è ancora molto costoso, da fotovoltaico, quindi abbasseremo i costi e potremmo venderlo a tutta l'Europa. In questo momento sto consumando 600 Watt, la produzione solare è 700 Watt, ok? La batteria è piena al 95%. Quindi abbiamo detto abbattiamo i costi, abbattiamo le pressioni, abbattiamo la nostra dipendenza, si parla adesso normalmente della dipendenza del gas, la guerra di Putin. Voi siete una famiglia che pratica la pace. Assolutamente, noi siamo solo che si rende a favore della pace. Però la praticate anche, perché questo vuol dire stare fuori dai giorni, no? Assolutamente, ma bisogna necessariamente tirarsi fuori dai giorni. Purtroppo i paesi che hanno maggiori risorse di idrocarburi sono paesi che politicamente sono decisamente stati. Per cui fare alleanze con altri paesi, come abbiamo fatto adesso nell'emergenza, ci sta, ma non è un progetto a lungo tempo. Io per una battuta un po' rude ho detto stiamo cambiando il pusher, ma la sostanza è tossica allo stesso. Bellissima, te la rubo subito. I rinnovabili sono parte anche di consapevolezza. Noi dobbiamo smettere di essere semplici identi consumatori che neanche si chiedono. Avere questo tipo di misurazione ti aiuta anche a capire dove puoi risparmiare, dove puoi consumare di meno. Perché si può vivere felici anche consumando meno energia. E soprattutto si può vivere nella casa con più tranquillità. Io spingerei moltissimo l'autoconsumo collettivo, perché abbiamo grandi condomini con grandissimi tetti. E la bellezza e la meraviglia della tecnologia fotovoltaica in situazioni anche di... Gli spassi terri di degrado. Tu hai abitato a Torbella Mola. Io abitato a Torbella Mola, sono stato da Dio. Torbella Mola sono stato benissimo. Persone splendide, cortese. Però è chiaro che non è che ci nascondiamo io più. Tutti conosciamo quali sono i problemi di Torbella Mola. La povertà in Ergella per esempio. Allora, in condomini del genere, dove veramente tante persone fanno fatica, non paga la bolletta, arriva veramente a fine mese. E non è il luogo comune del gente che ci ha abitato insieme. Fatica, tantissimi stranieri, persone di una cortesia unica. Unica. Bisogna aiutare tutti. Il fotovoltaico può. Un bel impianto in autoconsumo collettivo, dove tutte le palazzine beneficiano della grande energia. Perché un mega impianto, non solo scientificamente parlando, soddisferebbe i loro bisogni, magari con un accumulatore, chi può, potrebbe iniziare la mecca. Ma soprattutto venderebbe l'energia allo Stato. Che, per quanto minimo, venderebbe, restituirebbe tramite il GSE, un piccolo contributo. Quello che efficientemente reggiene. Magari lo Stato potrebbe usare quei soldi per fare manutenzione sulle case popolari. Magari, i parchi che ci sono, qualche giostino in più per i bambini. Però male, insomma, le scuole. La risposta sociale alla povertà energetica è data dall'autoconsumo collettivo. Bene. Grazie mille. È stato un piacere. Indipendenza energetica, abbattimento delle emissioni, lotta alla povertà, autoconsumo. Sono queste le parole d'ordine per un nuovo piano energetico italiano. Su questo voglio lavorare. Sono Rossella Muroni e mi candido per il centro-sinistra alla Camera dei Deputati.